Il fatto di Giancarlo Marcotti, il nostro format che vede protagonista lui, Giancarlo Marcotti, oggi lo saluto subito, fondatore di Finanza Inchiaro, che è con noi ogni settimana per fare un po' il punto della situazione sull'economia e non solo, sulla politica, sulla vita reale, insomma tutto ciò che comunque poi va a riversarsi direttamente sulle borse. Giancarlo, l'ho detto molto semplicemente ma è così, buongiorno. Buona giornata a te Emanuela e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ben trovato, allora Giancarlo oggi più che mai dovremo fare insieme un bilancio di questo anno 2020, intanto come si prospetta questa fine dell'anno? Partiamo da qui molto genericamente anche alla luce di come stanno procedendo le festività natalizie. Ma una delle cose che non potremmo assolutamente dire di quest'anno è che è stato un anno come gli altri, insomma. Quest'anno proprio... No. No. Ma tu sei superstizioso, quindi credi che l'anno bisesto porti effettivamente qualcosa di funesto, visto che quest'anno così è andata, però non so se tu sei superstizioso appunto. No, non sono superstizioso, però un po' scaramantico sì. Che ne so, quando giocavo a tennis se c'era una pallina che mi aveva fatto fare un punto cercavo di utilizzare la stessa pallina. Ci sono dei riti che tutti noi ci portiamo appresso, no? Non a caso così faccio una piccola operazione di marketing, il mio nuovo libro si chiama proprio Non ci credo ma Tocco Ferro, perché tutti noi almeno una volta abbiamo toccato ferro o comunque, ripeto, ci portiamo appresso dei riti, no? Dei piccoli riti. Esatto, proprio quello. Ecco, involontariamente ma ti ho fatto un assist, è vero, perché così, ecco, scaramanzia è che poi chiaramente è anche una maniera divertente di prendere certe decisioni così un po' scaramantiche, invece la superstizione no, ecco, non sono superstizioso. Non ti appartiene. No, non mi appartiene, però insomma quest'anno è stato più che funesto, quindi oltre a essere bisesto, è stato più che funesto, quindi in effetti insomma abbiamo avuto un anno molto ma molto particolare, un anno che è nato sull'onda di quello precedente ma che ben presto dopo meno di due mesi si è trasformato totalmente insomma diventando un anno assolutamente unico particolare. Guarda Giancarlo, intanto con la mia prima domanda non sapevo che tu avresti detto questo e quindi non sapevo che avremmo parlato dell'anno funesto, però senza saperlo il nostro titolo vedi che recita così, proprio 2020 il bilancio di un anno bisesto e funesto, beh è un modo anche tra virgolette per cercare di sdrammatizzare quello che è successo, indubbiamente è un anno che ci ricorderemo ancora per molto e credo così partiamo da qui ulteriormente, poi torniamo indietro e andiamo a ritroso e partiamo da gennaio più o meno di quest'anno, lo facciamo tra poco, però dicevo, credo che gli effetti di questo anno bisesto e funesto ce li porteremo addosso anche nella prima parte del 2021. Ma io ritengo non solo nella prima parte, anche per tutto il 2021, penso che se qualche cosa cambierà, poi a vedere se in meglio o in peggio, però sarà dal 2022, penso che il 2021, sì molti dicono i primi mesi, i primi tre, i primi sei mesi, però questo rimandare sempre al futuro i cambiamenti in positivo è diventato una prassi, per cui già noi ritenevamo di fare, alcuni mesi fa pensavamo di fare un Natale normale e invece purtroppo il Natale non è stato normale, ritengo che adesso si parli di aspettare 3-6 mesi, ma temo che sia da attendere un anno, poi il 2022 in effetti qualche cosa dovrà succedere, poi se succederà in meglio o in peggio staremo a vedere, però insomma ovviamente un paio d'anni di passione, sono già tantissimi, quindi non si può averne di più, però io temo che ancora il 2021 sarà un anno negativo. Nonostante non sarà bisesto, insomma però chiaramente gli effetti spesso scavano anche di più delle cause, chiaramente. Allora Giancarlo, però noi abbiamo iniziato quest'anno 2020 senza sapere chiaramente come sempre accade, ma nessuno avrebbe messo in conto questa ondata generale di eventi che ci ha avvolti. L'anno è iniziato peraltro un po' come si conclude, diciamo così, cito una delle notizie di queste ultime ore che è la Brexit, noi siamo partiti appunto a inizio anno 2020 dicendo chissà quest'anno i mercati seguiranno a ruota tutte le vicende legate proprio all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, cosa che è avvenuta assolutamente in ritardo rispetto alle aspettative, però siamo partiti così e siamo arrivati a un dunque. ricordi, quando ancora non parlavamo di Covid le notizie principali erano a livello economico la Brexit e i dazi di Trump con le diatribe e la guerra commerciale proprio tra l'America e la Cina. Esatto, questo è stato l'inizio dell'anno. Si attendevano appunto nell'inizio dell'anno due eventi in particolare, cioè questo 2020 prima appunto del Covid e quindi quando nessuno non poteva sospettare assolutamente nulla, c'erano due eventi che polarizzavano un po' l'attenzione. In Europa la Brexit appunto come è citato, negli Stati Uniti le elezioni di novembre. Ed in effetti la Brexit poi dopo, noi pensavamo che si concludesse ben in anticipo, si è conclusa invece proprio al rush finale poco prima della cosiddetta no deal dell'art Brexit, cioè di chiudere senza un accordo. Invece si è arrivati proprio, ripeto, in termini calcistici, bisognerebbe dire in zona Cesarini. Invece per quanto riguarda le elezioni americane anche lì è successo qualche cosa, mai accaduto in precedenza, cioè che ad oggi, cioè 28 di dicembre, ufficialmente non abbiamo ancora un Presidente eletto e è successo di tutto in quelle elezioni. Quindi i due eventi che polarizzavano l'attenzione in effetti sono stati estremamente così anomali per entrambi, però tutto è stato poi invece appunto così coperto, pagocitato da questo Covid, da questo coronavirus che ha cambiato il mondo. Esatto, anche per esempio tu hai citato le elezioni americane, chiaramente quest'anno si è concluso così e l'anno si è aperto con invece tutte le diatribe commerciali tra Trump e la Cina, appunto un anno che ha avuto come protagonista assoluto Donald Trump. Questo sicuramente ce l'ha ancora, perché poi in questi giorni, proprio in merito al pacchetto di aiuti che il Congresso ha portato a termine per aiutare gli americani in difficoltà a causa del Covid, prima si è messo di traverso e poi ha deciso di firmarlo. E quindi Trump è stato, come dire, un po' il padrone di questo 2020. Sì, chiaramente lo si attendeva anche proprio perché queste elezioni americane erano attese anche se i sondaggi davano quasi un plebiscito per Biden, poi alla fine così non è stato, per lo meno non si è avuto questo plebiscito e anzi questi stati, questi sei stati dai quali poi dopo dipende tutto l'esito delle elezioni, a tuttora ci sono delle discussioni infinite e è probabile che la cosa abbia ulteriormente degli sviluppi nei prossimi giorni, insomma. Quindi delle elezioni infinite, chiamiamole così, le elezioni che non terminano mai. Assolutamente, assolutamente sì. Sì, approfitto della domanda di un amico per agganciarci appunto a quella che però è stata la notizia portante di questo anno, cioè quella legata al coronavirus, con le conseguenze economiche del caso che avremo in modo netto e più chiaro di fronte agli occhi come fotografia nel 2021. Gianni scrive, pensi che il calo del PIL 2020 in Italia potrà avvicinarsi al 15%? Ecco, parole come Covid, lockdown, smart working, PIL, che non è che è stata inventata con il Covid, però si è parlato molto di più di PIL proprio per il calo, hanno fatto parte delle nostre conversazioni quotidiane Giancarlo, non solo nella divulgazione delle notizie, ma proprio sono subentrate in quella che è la vita quotidiana. Da dove ti senti di partire magari proprio dalla domanda dell'amico con le stime rispetto al calo del PIL futuro? Sì, allora, per quanto riguarda il PIL io spero che il calo sia inferiore al 15%, dovrebbe avvicinarsi al 10%, poi dopo se fosse 9 meglio, se fosse 11 peggio, ma insomma più o meno dovremmo essere su quel livello. C'è un dato che è stato pubblicato proprio due giorni fa, quindi recentissimo dalla CGA di Mestre, che è allarmante, il calo del fatturato delle aziende italiane nel 2020 sarebbe di 420 miliardi, dato che le aziende italiane fatturano all'incirca 3 mila miliardi l'anno vuol dire più del 10%, intorno al 13%, quindi questo è un dato assolutamente allarmante. Il dato ancora più allarmante secondo me è che sai Emanuela che il nostro governo ha continuato a parlare di questi ristori, di questi ristori, sembra quasi che… Sono arrivati a 4 mi pare, ristori, ho perso un po' il conto sinceramente. Sempre per la CGA di Mestre, cioè dati di un istituto celebre e comunque prestigioso come la CGA di Mestre, sempre appunto dati i suoi invece sarebbero arrivati alle imprese italiane ristori per 29 miliardi, alle imprese sto parlando, quindi insomma 420 miliardi in meno di fatturato, 29 miliardi che sono circa 11 miliardi a fondo perduto più qualche tassa che è stata abolita, comunque 29 miliardi rispetto ai 420 è chiaro che non bastano assolutamente, non basta parlare di ristori, qua se vogliamo tenere in vita il sistema industriale italiano bisogna parlare di rimborsi, non di ristori, cioè di dare dei soldi a fondo perduto, ma peri a fondo perduto, perché se io rimando il pagamento delle tasse, ma resta, prima o dopo dovrò pagarle, e allora se io non lavoro ditemi come faccio a pagare le tasse, quindi questo nel 2021 io sono ancora, come avevo detto all'inizio della trasmissione pessimista e penso solo che qualche segnale, buon segnale di ripresa ci potrà avere solo nel 2022, ma nel 2021 avremo ancora l'implusso di tutte queste negatività del 2020 che per me sono state anche un po' non nascoste, ma insomma abbastanza non pubblicizzate, mettiamolo così. Certo, guarda, come anche tu sai, mi piace sempre ragionare con le parole, mi piacciono le parole, perché poi ciascuno può renderle proprie, però fondamentalmente hanno un significato ben preciso soprattutto in un contesto storico e oggi stiamo procedendo attraverso le parole per fare questo bilancio, la parola ristori, io forse l'avevo detto proprio a te in una delle nostre puntate, mi rimandava qualcosa proprio di risolto in partenza, dicevo ma mi sembra il ristoro che si prende quando si fanno, è presente le corse, non so, ci sono i punti ristori che certo danno un minimo di ossigeno in quel momento, ma poi dopo due passi ulteriori è già finito, l'effetto è già vanificato e quindi chiaramente ora possiamo scherzare finché vogliamo a livello lessicale, però è chiaro che ci vuole di più per ridare ossigeno alle imprese, peraltro tu hai citato i dati della CGA di Mestre, io ho di fronte a me, davanti ai miei occhi quelli di ConfCommercio, il 2020 nero delle imprese sparite più di 300 mila, soprattutto le imprese legate al commercio non alimentare e dei servizi di mercato, un fenomeno tutt'altro che compensato dalle 85 mila nuove aperture, ci sono state anche delle nuove aperture, però chiaramente se facciamo un bilancio e mettiamo sul piatto della bilancia i due numeri, chiaramente il confronto non regge, 300 mila perse, 85 mila guadagnate, ecco questo fa riflettere Giancarlo. Il bilancio insomma basta fare una sottrazione da 300 meno 85 bilancio meno 220 mila aziende. A questo Manuela permettimi una cosa perché me li ero segnati, ad un dato come quello che hai appena accennato tu, cioè 300 mila aziende in meno in Italia e appunto vuole anche dire nei prossimi anni aziende che non possono più fatturare visto che hanno chiuso, quindi non si possono più riprendere, fa invece da contraltare e sembrerebbe appunto un assurdo l'andamento delle borse nel mondo, anche se in Europa è stata una cosa… io ho preso dei dati ad oggi, quindi sono insomma freschissimi, di come è andata la borsa quest'anno nel mondo. Vai, vai col bilancio. Parto dall'Europa e parto dal peggiore al migliore. Allora, in Europa la peggiore è stata l'Austria che ha perso il 14-11%, poi la Gran Bretagna il 12,4%, poi la Francia il 7,6%, l'Italia 5,8%. Positiva invece la Germania più 2,55%, ma la migliore in Europa è stata la Svezia più 5,43%, ma questa è l'Europa, perché se noi andiamo a vedere invece nel resto del mondo, attenzione, allora sì Hong Kong, ma sappiamo che cosa è successo, ha fatto meno 6,68%, l'Australia praticamente in parità meno 0,29%, ma il Sudafrica più 3,66%, Shanghai più 11%, il Giappone più 13,5%, l'India più 14,5%, la Corea più 27,5%, Shenzhen che è la borsa cinese interna, addirittura più 31,4%, ma non basta perché se noi andiamo a vedere le borse americane, addirittura il Nasdaq ha guadagnato più del 40%, e poi ho altri tre dati velocissimi, l'oro ha guadagnato il 24 ai rotti per cento, contemporaneamente il dollaro ha perso mediamente, sai che c'è il dollar index, il 6,51%, ultima cosa, c'è un qualche cosa che batte tutti in guadagno, ma nettamente, cioè strabatte tutti, non so come dire, umilia tutti gli altri, con un guadagno del 278% da parte del Bitcoin, questo è il bilancio delle borse e quindi sembrerebbe un ottimo anno. Eh sì, ti faccio una domanda, insomma, un po' da un miliardo di dollari, è anche complicata se vuoi, perché poi adesso mi direi tu, ma c'è una spiegazione tecnica questo, ce lo siamo chiesti tante volte, è stata una delle domande più frequenti di questo 2020, cosa rispondi tu Giancarlo? No, allora, ovviamente tutto questo deriva principalmente dal fatto dell'iniezione di liquidità delle banche centrali nel mondo, perché ogni banca centrale ha fatto delle operazioni straordinarie di importi inimmaginabili in precedenza, quindi è chiaro che una parte di questi importi sono andati a finire sul mercato finanziario, anzi una parte non da poco, ma poi al di là di questo però abbiamo visto i dati dall'Europa e fuori dall'Europa e chiaramente la differenza, insomma, balza all'occhio tutto, cioè i segni meno, a parte Hong Kong che vabbè sappiamo cosa è accaduto, ma i segni meno praticamente sono solo in Europa e quindi questo vuol dire che il nostro continente comunque, ormai da tempo, soffre, abbiamo visto l'Asia correre come se fosse un anno straordinario, vediamo la Corea, una cosa incredibile, ma anche la stessa Cina e poi gli Stati Uniti. Purtroppo, purtroppo noi siamo in quella parte del mondo che continuiamo a soffrire e quindi sarà difficile insomma per noi anche il prossimo anno, questo di sicuro. Anche perché paradossalmente, lo abbiamo detto anche in altre occasioni Giancarlo, però paradossalmente quando e se la situazione, anzi se mi auguro che prima o poi sì, però quando non sappiamo ancora la situazione dovesse riprendere e tornare un po' più rosea, bisognerà vedere come si comporteranno le banche centrali per il discorso che facevamo e quindi di conseguenza se gli investitori hanno riposto troppa fiducia, tanta fiducia giustamente nelle banche centrali, se queste dovessero cambiare il loro modus operandi e quindi le loro strategie, gli investitori potrebbero trovarsi di fronte a un po' un ulteriore pantano, mettiamola così, è un po' questo il succo del discorso. Assolutamente hai toccato il tasto dolente, nel senso che appunto se noi oggi così concludiamo un anno complessivamente negativo, assolutamente negativo per quanto riguarda l'economia reale e comunque non eccessivamente negativo invece per quanto riguarda il comparto finanziario e dobbiamo appunto dire che l'intervento delle banche centrali è stato determinante, ma l'intervento delle banche centrali non potrà durare all'infinito, anche perché è un aiuto ma non è la soluzione del problema, quindi la soluzione del problema purtroppo è tornare a vivere in maniera normale, ad operare in maniera normale, perché è chiaro che un Natale come questo, tutti abbiamo speso di meno degli scorsi anni, ma perché ha… Figurati tutte le cene, gli aperitivi, quindi tutto l'indotto che portava poi ad arrivare a organizzare queste e di conseguenza chi usufruiva dei servizi, non c'è stato nulla di tutto ciò, quindi è presto detto. E lasciami anche citare una cosa per l'Italia importantissima, perché è un'azienda importantissima, quella del turismo. Eh già. Il turismo purtroppo è il turismo nel… adesso anche il turismo di montagna per il lockdown di questi giorni, ma il turismo nelle città d'arte per noi è stata una cosa che ha veramente… cioè non avremmo mai potuto pensare a una cosa del genere, cioè pensa tutto quello che c'è attorno al turismo, cioè come in tutte le città d'Italia, poi appunto ci sono queste famose città d'arte, noi citiamo sempre Venezia e Firenze, oltre a Roma naturalmente, ma tutte le città in Italia vivono di turismo, cioè per dire, adesso io come sai parlo dal Veneto, appunto tutti parlano di Venezia, ma Verona vive di turismo, Padova vive di turismo, la stessa Vicenza con il Palladio vive di turismo, cioè ci sono tantissime città in Italia che hanno sofferto enormemente questa situazione, prima di riprendere a far di nuovo insomma viaggiare le persone, insomma ci vorrà del tempo. Assolutamente, non dimentichiamo c'è anche tutto il fattore psicologico e soprattutto anche di tempo logistico, perché psicologicamente ci sarà paura per un po' a spostarsi, perché non si sa esattamente come varierà anche la situazione del Covid da paese a paese, ma anche a livello logistico, perché ovviamente tutta la trafila, per esempio in aeroporto bisogna comunque firmare la dichiarazione, bisogna chiaramente prendere la temperatura, sono tutte operazioni rallentate, quindi a volte il tempo dilatato fa anche abbandonare l'idea di fare un viaggio, ad esempio, dice se si hanno pochi giorni vado la prossima volta, quindi anche questo aspetto non va sottovalutato, anche laddove incrociamo le dita, con il nuovo anno dovesse ripartire tutto e quindi dovessero essere permessi gli spostamenti. Giancarlo ti faccio l'ultimissima domanda e poi ti saluto, che ci riporta un po' alla valutazione che stavamo facendo prima proprio del ruolo delle banche centrali. Un amico scrive come proteggersi da tutta questa emissione di denaro con base monetaria mai vista prima, per esempio dice oro e bitcoin, li hai citati anche tu prima, su medio periodo possono essere una valida alternativa? Non so se possiamo dare un cenno all'amico che scrive. Allora, sui bitcoin io non ci credo, ma non credo in generale a queste valute alternative, per me la moneta è una sola ed è quella che viene emessa dalle banche, tutti gli altri tipi di moneta possono essere delle monete parallele, ma alla fine non aumentano, non è che incrementano la ricchezza delle persone. E poi le banche centrali teoricamente possono emettere tutta la moneta che si vuole, ma se si emette moneta e se non si lavora non si migliora la situazione economica di nessuno. Quindi al bitcoin non ci credo e tenete presente che al 278% di quest'anno, cioè del 2020, poi dobbiamo invece sommare il 2700 e rotti per cento di guadagno negli ultimi 4 anni, cioè una cosa da far rizzare i capelli. L'altra cosa invece è l'oro, è una cosa differente, non che io consigli di acquistare l'oro perché a volte, abbiamo sempre detto che l'oro è un bene rifugio, ma se andiamo a vedere il grafico dell'oro non sempre è salito nei momenti di difficoltà ed è sceso nei momenti di prosperità. Quindi se si vuole comprare dell'oro, per l'amor del cielo, avrà sempre il suo valore, non è che sarà una cosa che perderà totalmente di valore, perché comunque è un bene, voglio dire. Però non vediamolo proprio come un bene rifugio, nel senso che non è detto che per forza debba aumentare nei momenti… Noi abbiamo visto questo, se vogliamo, Manuela, proprio a febbraio-marzo, cioè quando è scoppiato il Covid, diciamo, è sceso anche l'oro, poi è risalito, ma quando scendevano le borse, in quel momento lì scendeva anche l'oro, quindi non vediamolo proprio come un bene rifugio, ecco questo. D'accordo. Però ecco, quello che verrà, nessuno lo… Eh no, non è dato sapere. Vi lascio con questa riflessione, o meglio, questi dati che ha dato il Centro per le ricerche economiche e di affari, proprio rispetto al PIL dei paesi. Intanto i differenti ritmi di uscita dalla pandemia avvicinano la Cina e gli Stati Uniti, perché ha un anno di distanza dai primi casi di coronavirus che sono registrati a Wuhan, l'epicentro del Covid. Lo ricorderete, Pechino è proiettata verso un recupero economico che per il resto dell'Occidente resta un miraggio. Questo si rifletterà sulla dinamica proprio del PIL, del prodotto interno lordo. La Cina crescerà quest'anno del 2% e sarà l'unica tra le grandi potenze a vedere un segno positivo. Gli Stati Uniti, prima economia al mondo, invece saranno in calo, cederanno il 5% che è poco più del calo previsto a livello globale, meno 4,4 la peggiore contrazione della seconda guerra mondiale. E giusto per arrivare a un punto e al dunque, parlavamo prima dell'Italia, cosa succederà al nostro paese? Purtroppo leggendo questi numeri il declino è servito perché attualmente siamo ottavi al mondo a livello economico, ma scivoleremo più sotto al decimo posto già nel 2025 per poi uscire dalla top 10 e ritrovarci nel 2035, ultimo anno stimato in questa ricerca, al 14esimo posto. Insomma, detto questo Giancarlo io ti saluto perché l'ho letto adesso proprio in diretta e c'è un po' da... insomma speriamo di no, speriamo che magari ci possano essere in tutti questi anni anche degli interventi strutturali per il nostro paese che sono quelli che mancano per pensare davvero non solo alla ripartenza ma a una crescita, perché qui parliamo solo di ripartenza, ma poi se ripartiamo e basta non abbiamo fatto nulla. Guarda Manuela, fammi concludere con così una battuta che potrebbe essere di buon augurio. Diversi anni fa c'erano delle previsioni estremamente ottimistiche sull'Italia che avrebbe addirittura superato l'economia tedesca e sarebbe appunto diventata praticamente la prima economia dell'Europa nel 2020, cioè erano previsioni fatte negli anni 80 appunto a distanza di 30-40 anni, quindi nel 2020 noi avremmo dovuto superare l'economia tedesca, adesso siamo alla metà del PIL della Germania e quindi auguriamoci adesso che queste previsioni negative invece si appunto vengano smentite e che tra 30-40 anni saremo invece quasi in vetta alla classifica e non passati in serie B come invece ci danno in questo momento. No speriamo, altro che serie B, qua siamo proprio in, cioè non so, senza nulla togliere le altre categorie ma fuori gara proprio. In eccellenza mi suggeriscono dalla regia, vedi assolutamente, ripeto senza nulla togliere a quelle categorie insomma ci mancherebbe, però se parliamo di economia invece togliamo molto, quindi insomma bisogna fare la giusta distinzione tra l'economia e il mondo dello sport. C'è Fiorella, ci sono un po' di messaggi però non facciamo in tempo, però Fiorella dice ormai il mondo è comandato dalla finanza e ciò avviene da quando Clinton nel 2007 ha tolto l'ente che controllava la finanza e poi c'è chi vorrebbe sapere come si possono in questo contesto preservare un po' i risparmi in banca anche in vista di quello che succederà, però io direi di fare una cosa Giancarlo, intanto ricordiamo sempre che tu sei ben disposto a ricevere tutti i messaggi anche attraverso i tuoi canali privati e ti seguiamo su Finanza in Chiaro perché insomma ogni giorno pubblichi un video, c'è chi ti fa i complimenti dice una persona serissima, quindi insomma rimando anche eventuali riflessioni a te direttamente ma se sei d'accordo nella prossima puntata di il fatto di Marcotti settimana prossima, quindi lunedì, magari ripartiamo anche da questi spunti per capire come in un contesto ancora difficile, proprio anche basato su queste previsioni, si possano difendere i nostri risparmi perché poi è la cosa più importante, quantomeno come possiamo difenderci dagli attacchi esterni che non possiamo controllare in prima persona, se sei d'accordo avvisiamo i nostri amici di seguirci anche la settimana prossima. Assolutamente d'accordo. D'accordo, allora anch'io. Grazie Giancarlo Marcotti, ci vediamo con il nuovo anno e insomma passa una buona fine dell'anno, una buona fine dell'anno di questo 2020 e ci risentiamo la settimana prossima. Permettimi ovviamente di fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, il 2020 è andato così, speriamo davvero che il 2021 porti qualche migliore notizia rispetto a quelle che abbiamo avuto finora. Buon anno a tutti. Grazie, buon anno anche a te Giancarlo Marcotti che ritroviamo presto su Le Fonti TV. E noi adesso terminiamo questa prima parte di live, vi ricordo che torniamo in diretta alle 14.30 sui mercati, quindi riprenderemo la lettura dei mercati dopo e peraltro oggi pomeriggio affronteremo tante questioni, ci sarà anche collegato dall'America un medico che probabilmente avrete visto perché in questi giorni è girato un suo video, sei vaccinato e però ci sono state un po' di fake news intorno al vaccino e quindi risponderemo a questo, non vi anticipo nulla però seguiteci dalle 14.30 e adesso naturalmente vi lascio in compagnia di tutti i nostri approfondimenti e notizie, quindi Fast Finance, Pocket News e tutti i nostri altri format e ci vediamo più tardi. Ciao